inevitabilmente continua ad esserci della cacciara nei confronti di questo giocatore e non può essere nemmeno altrimenti perché più passano i giorni più si avvicina la fine del calciomercato e direttamente indirettamente prende sempre più piede questa narrazione attorno a questa possibile operazione che si potrebbe ufficializzare a partire dal primo febbraio 2025 quando il giocatore avrebbe modo a tutti gli effetti di poter firmare a gratis per qualsiasi squadra solo che la bombetta che ha lanciato Sabatini in parte ma non del tutto è stata ripresa anche da Biasin giornalista interista a stretto contatto quantomeno mi sento di dire con Beppone Marotta fanno sollevare sempre più i dubbi riguardo quest'ipotesi anche se sinceramente voglio rimanere della mia idea e dico la verità non voglio neanche pensare che Federico Chiesa possa arrivare a questo punto della vicenda ma prima di entrare nel merito ragazzuoli belli come al solito vi invito a sostenere questo video a sostenere il canale in generale con un bel like e un'iscrizione qualora ancora non l'abbiate fatto mi raccomando al di là di tutto rimane pur sempre una cosa non importante di più detto questo c'è anche poco da aggiungere ormai riguardo alla situazione legata a Federico Chiesa oggi magari tutto sport ha parlato di un giocatore che ha rifiutato il Besiktas Fabrizio Romano ha parlato di un Tottenham che in realtà nel concreto non è che sia poi così tanto interessato all'idea di ingaggiare il giocatore come sappiamo nei prossimi giorni ci sarà un incontro un ulteriore incontro tra giuntoli e fali ramadani per magari presentare qualche offerta per parlare a grandi linee di come si è andati il weekend a Londra e se un qualcosa in pentola bolle oppure no non si sa però appunto oggi Sandro Sabatini a Radio Radio si è espresso in una determinata maniera è partito intanto dicendo che se si guardano i numeri di Chiesa anche prima dell'infortunio non sono numeri per una valutazione così alta si tratta di una dinamica di mercato a Chiesa è sempre stato detto che non giocava bene per colpa dell'allenatore Chiesa non è per niente riconoscente nei confronti del club che lo ha pagato 50 milioni e lo ha aspettato per un anno ora sapete perché si è messo in testa di andare via parametro zero il giorno del matrimonio Marotta gli ha mandato un messaggio che può essere anche semplicemente di auguri dato che Marotta ha seguito tutta la spedizione a fianco dell'Italia in Germania magari si è creato una sorta di rapporto con Federico Chiesa e nel giorno delle nozze elegantemente come il Don Beppone se vuole sa fare gli ha fatto gli auguri di matrimonio ma al di là di tutto possiamo intuire a che cosa si stia riferendo Sabatini ma ovviamente andiamo step by step perché all'interno di questa dichiarazione sono stati toccati più temi inevitabilmente e per quanto riguarda la valutazione pre infortunio dal mio punto di vista c'è veramente molto poco da dire vedendo che si parlava di un giocatore di 24 anni di fatto vedendo che si parla dell'estate anzi della stagione 2020-2021 quando si parla della stagione pre infortunio di Federico Chiesa dove alla Juventus ha ottenuto dei numeri allucinanti trascinandola se vogliamo dire così alla conquista della Champions League nell'ultima giornata di scapito del Napoli ma vabbè ma anche aveva fatto una Champions League clamorosa dove di fatto fino all'arrivo di Federico Chiesa nella stagione precedente aveva segnato solo ed esclusivamente Ronaldo a momenti in Champions mentre invece Chiesa è arrivato e ha fatto una stagione devastante poi all'europeo di fatto ha trascinato la nazionale alla conquista a tutti gli effetti scalando le gerarchie perché inizialmente boh anche inspiegabilmente dal mio punto di vista giocava Berardi e non lui ma vabbè Anna certa Mancini se ne è accorto ha iniziato a metterlo e toh caso strano sono arrivati anche i risultati e va bene tolto secondo me questo discorso legato alla valutazione pre-infortunio perché veramente è pieno di one season wonder che vengono poi ceduti alla fine dell'anno allucinante a cifre fuori da ogni logica penso che per un Chiesa 25enne che fa una stagione clamorosa con la Juventus e trascina l'Italia a vincere l'europeo 2021 una valutazione abbastanza importante penso no fosse ben più che meritata ma vabbè sono altri discorsi per quanto riguarda il secondo aspetto io sinceramente non voglio neanche far iniziare quantomeno in questo momento qui il giochino del puntare il dito nei confronti del giocatore perché spesso e volentieri poi sappiamo che queste cose finiscono nell'insulto più totale e nell'odio sportivo ma spesso e volentieri anche non proprio del tutto sportivo diciamocelo chiaramente e io non voglio pensare ad una dinamica di questo genere a questa dinamica dove che se anche Chiesa avrebbe sin da subito la possibilità di andare altrove no a questo punto rimango alla Juventus per poter firmare a partire da febbraio a zero con l'Inter oh è tutto possibile io posso anche credere sinceramente a questa versione che piano piano a fuoco non lento di più ma rotta stia già sondando questa possibilità anche perché non prendiamoci in giro fa parte del mercato che può piacere o meno assolutamente in queste circostanze può fare di tutto tranne che piacere però fa parte delle dinamiche di mercato a maggior ragione se magari in questo momento non c'è nessun club veramente importante e ti chiama il presidente dell'Inter dicendoti oh se te non ti sforzi esageratamente a trovare una nuova squadra sai che molto probabilmente da parte mia a partire da inizio febbraio potrebbe arrivare un'offerta anche abbastanza importante per te per portarti all'Inter squadra che comunque piaccia o non piaccia negli ultimi due anni ha vinto lo Scudetto ha vinto la Supercoppa ha vinto la Coppa Italia ha giocato una finale di Champions League e può essere tranquillissimamente considerabile un club ai noi di livello alto che comunque di anno in anno parte con l'obiettivo di vincere lo Scudetto e che ha lato europeo sempre la cognizione di poter fare meglio dell'anno prima quindi purtroppo bisogna anche tenere in considerazione queste cose qui dall'altro lato io non voglio minimamente pensare che Federico Chiesa si possa poi rivelare in questa circostanza direi più una persona che un giocatore di questo genere perché indubbiamente è giustissimo quando Sabatini dice che la Juventus ha fatto un investimento importantissimo nei suoi confronti le cifre del trasferimento le conosciamo benissimo tutti quanti e che soprattutto come anche legittimo che fosse in quel momento ci mancherebbe altro vedendo che era un asset della Juventus ha aspettato il giocatore lui ha detto per un anno ma probabilmente anche di più perché da quel momento là il chiesa che tutti quanti conoscevamo un Federico Chiesa non l'abbiamo mai più visto e poi come anche logico che sia dopo un infortunio di quel genere poi c'era sempre non la ricaduta ma qualche problema che si andava ad aggiungere quindi piuttosto che dire un anno qui a momenti siamo sull'anno e mezzo ma forse anche due e ricambiare questa cosa non facendo guadagnare una lira neanche per sbaglio alla Juventus andando a maggior ragione nella cerrima rivale ecco io non voglio pensare magari mi sbaglierò probabilmente mi sbaglierò sì anche forse anche quasi probabilmente posso dire mi sbaglierò che comunque Federico Chiesa sia una persona di questo genere non lo voglio pensare con anche no appunto Biasin che aggiunge dicendo beh secondo me Chiesa la soluzione la troverà ma se non dovesse trovarla quest'estate sapete già perché facendo riferimento indiretto a questa possibilità anche abbastanza concreta evidentemente dal suo punto di vista che possa poi andare a parametro zero all'Inter a luglio 2025 dove poi si potrebbero comunque aprire delle parentesi legate all'aspetto tecnico tattico diciamo dove per praticamente due anni si è fatta la punta al cazzo riguardo Chiesa che non poteva giocare nel 3-5-2 per le caratteristiche come che gioca l'Inter 3-5-2 poi vedendo il pacchetto anche offensivo che hanno è vero che magari puoi aggiungere Federico Chiesa però Federico Chiesa in quella circostanza non lo vai ad aggiungere Federico Chiesa se lo prendi lo prendi per farlo giocare al posto di Dunfris per carità di Dio figuriamoci se mi si fa no il confronto tra figurine non è un livello è quattro livelli superiore a Dunfris Federico Chiesa ci mancherebbe altro però se magari vedendo che a sinistra hanno Di Marco a destra hanno Dunfris in caso gioca Darmian in caso avevano preso anche Quadrado comunque giocatori che fanno del sacrificio anche dal punto di vista difensivo un loro forte sono giocatori che certo offendono ma soprattutto difendono anche torni a mettere Chiesa nel 3-5-2 a tutto campo avanti indietro certo è possibile sta facendo di quelle cure Inzaghi che sta facendo diventare dei giocatori allucinanti gente che fino a due anni prima erano dei rutti quindi figuriamoci se non può far tornare Chiesa un giocatore da tutta fascia per 90 minuti in una partita ogni tre giorni aspetto di tutto da quel demone di Inzaghi però al di là di tutto quanto io non voglio neanche minimamente pensare ad un epilogo differente perché mi scadrebbe tanto veramente tanto poi certo loro sono professionisti loro legittimamente possono fare ciò che ritengono più opportuno io in quanto tifoso penso che sia legittimo un mio eventuale giramento di coglioni anche abbastanza adelica diciamo voi però ragazzuoli fatemi sapere qui sotto la vostra sinceramente ribadisco a me non mi sembra il caso di far partire questa crociata nei confronti di Federico Chiesa quando di fatto poi siamo a metà mercato magari aspetta la soluzione giusta speriamo perché altrimenti rischiano di essere anche uccelli senza zucchero e questa cosa non va indubbiamente negata però ecco penso sia abbastanza presto per far partire le crociate qualora questa cosa fosse uscita no verso il 20 d'agosto probabilmente no vi direi anche che quasi quasi questa crociata si può anche far partire adesso sinceramente mi sembra un attimino presto ma al di là di tutto quanto sono veramente curioso di sapere la vostra e soprattutto la vostra eventuale paura qualora si dovesse mettere in scena questa vicenda qui è per il resto nulla io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare fino alla fine forza juve